Ciao Si va a Las Vegas è Roberto Guida con l'ansia Siamo a 2 ore da Las Vegas siamo in un'area di servizio tipico proprio americano qui questa è la nostra macchina tutti i conforti possibili è fondamentale il navigatore quindi o ve lo scaricate con gps offline oppure anche di internet che è fondamentale avere internet qui mi piace Mr. Chao 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 Questa è una cosa simile Il guantone di Irochi e il viagolo 3 4.000 dollari A Las Vegas abbiamo avuto questo biglietto gratuito di Uber Adesso vediamo se funziona Da poco scendiamo, appena piovuto Las Vegas è veramente bella L'aria purtroppo non si deve infrescare Insomma il motel non è dei migliori La zona centrale è molto molto economica Ma il motel è proprio molto Per la prima sua giurità Per la prima sua giurità Allora好不好 Otra la prima sua giurità Allora abbiamo messi centri per quanto riguarda Per la prima sua giurità Tutti i passaggi Dueci le seu gap Stasera torniamo qui per godirci lo spettacolo delle montane. Siamo in Francia. Questa è una fish in calamita, tutto un dollaro, spiziosissimo. E io fai mio gusto. E io fai mio gusto. E io fai mio gusto. Grazie a tutti.